Intervistato dal settimanale Nuovo, Kikkonalli fa sapere di essere vicino alla partecipazione a Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi. L'agente dell'uomo sarebbe in trattativa con la produzione del reality allo scopo di aggiudicarsi la partecipazione dell'ex marito di Tina Cipollari. E lo stesso Kikkonoto parrucchiere, a raccontarlo. Il mio agente sta cercando di capire che cosa sia meglio fare. Io sono un parrucchiere e non punto a fare spettacolo. Ma un'associazione di italo-spagnoli ha chiesto a gran voce di inserire un italiano nel cast e volevano che fossi proprio io. Così la produzione mi ha contattato. Noto in tv come Kikko, l'uomo entra nel dettaglio delle motivazioni che l'avrebbero spinto a cercare di entrare e far parte del cast di un reality. Ormai sto facendo un percorso professionale e individuale proprio per togliermi di dosso l'etichetta di marito di... Magari l'isola può essere l'occasione giusta per far vedere a tutti chi sono. Per prepararsi al meglio, Nalli starebbe perfino frequentando un corso di spagnolo. Sto per cominciare un corso intensivo di spagnolo. Anche se la parola che per ora so dire meglio è Telecinco, il nome del canale che trasmette Supervivientes. Kikko non è più il marito di... Il suo matrimonio continua a Cipollari, madre dei suoi tre figli, e terminato da qualche mese. I due, dopo aver attraversato un numero imprecisato di crisi, hanno deciso di dirsi addio e di farlo in silenzio, nel rispetto della serenità dei loro bambini. Per il momento, nessuno dei due ha voluto rivelare con chiarezza le motivazioni della rottura. Chi se ne frega!